Un primo commento a queste elezioni politiche del 2018, vediamo un centro-destra in vantaggio con dato del 37-38% e anche un 5 stelle che ha fatto veramente un grande risultato. L'unica però possibilità che vedo per l'Italia per dare un governo che dia stabilità e che dia un futuro ai nostri figli ognuno di noi è quella di un centro-destra che possa governare, possa dare quelle risposte oggi fondamentali e importanti che i nostri cittadini ci chiedono, dalla diminuzione delle tasse, una maggiore sicurezza e un'attenzione verso le fasce più deboli della nostra popolazione.